Oggi è lunedì, inizio della settimana di allenamenti, per la prima volta i nostri allievi di Mr. Gabriele di Felice si stanno allenando al nuovo di Via Olimpia, è una giornata, è un pomeriggio, fa freddino, un po' di freddo, a vietà frizzante, il Mr. Adesso i ragazzi si sono riscaldati un po', esercizi di riscaldamento, adesso sta predisponendo degli esercizi adatti proprio a loro.